Bene, 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 complimenti Matt, hai fatto un gran bel match, no davvero guardami, ogni volta che siamo su quel ring ti superi sempre di più, quindi complimenti, ma vedi hai sempre quel briciolo di fortuna, io non ho dimenticato quando ci siamo affrontati due mesi fa, e di certo la fortuna che stasera non ti ha abbandonato. Il punto è che ho parlato col presidente della Rising Sun, e indovina chi dovrai affrontare il 7 maggio, non penso che sarà qualcosa di facile, no? Steve, Steve Mackey, sai che ti dico, mi ti aspetto su Rimini il 7 maggio, buona fortuna, buona fortuna a te. Ciao! Ciao! Ciao!